Massimo Brianschi, agente FIFA, il voto più alto per adesso, per quello che è stato fatto sul mercato, va alla Roma e al DS Sabatini? Beh direi che la Roma ha fatto, secondo me, un grande mercato finora. Credo che non sia ancora finito. Dovrebbe esserci qualcosa in difesa, almeno? Probabilmente sì, ma secondo me anche in prospettiva, per gli anni futuri. Credo che l'Oscar del mercato, secondo me, va dalla Roma. Ha lavorato molto bene anche per ausilio dell'Inter. L'Inter ha fatto, secondo me, una grande squadra, soprattutto in mezzo al campo. Ha dato spessore davanti, sono molto bravi, quindi sarà anche questa una società che nel prossimo campionato darà delle soddisfazioni. Tornando alla Roma, Iturbe riuscirà ad inserirsi subito all'interno della squadra giallo-rossa, a passare da Verona. A Roma potrebbe essere un salto di cui lui può risentire? Iturbe è un grande giocatore, i grandi giocatori si adeguano subito a tutte le situazioni, quindi farà un campionato straordinario. Quanto riguarda Ucan, è un altro giocatore di cui si parla bene, c'è curiosità intorno a questo calciatore? Sì, è un giocatore che potrebbe avere delle chance, ma sono giocatori di un livello alto, quindi quando tu un grande giocatore lo metti in un impianto già collaudato, già forte, è facile che i risultati arrivino. De Laurentiis piazzerà qualche colpo, ce la farà da qui al mercato, anche per provare comunque a rivitalizzare un po' l'ambiente dopo la delusione della mancata qualificazione alla Champions? Sì, è stata una grande delusione, logicamente, credo per tutto l'ambiente. De Laurentiis mi sembra che da quando ha iniziato la sua avventura nel calcio a Napoli abbia fatto delle cose straordinarie, a livello di risultati, a livello di società, una società eccellente. Quindi non credo si tirerà indietro proprio adesso, appunto che come dicevi tu l'ambiente è un po' in ribasso, perché purtroppo questa è stata una delusione grande. Però credo che Napoli abbia, proprio a livello di tifosi e di società stessa, tutte le possibilità per riprendersi e rifare di nuovo quei campionati che ha fatto ultimamente. Cosa può essere successo al Napoli nel doppio confronto con il Bilbao, premesso che comunque la squadra spagnola è di tutto rispetto, di grande livello? No, appunto, hai detto bene, forse il problema è stato proprio questo, che il sorteggio non è stato sicuramente benefico con il Napoli. Incontri una squadra molto forte, hai avuto anche la partita di ritorno nel loro stadio, importante, dove mi sa che non vorrei sbagliarmi, ma poche squadre hanno vinto in quello stadio ultimamente. Quindi credo che il problema sia stato proprio il sorteggio. Parlando di alcuni dei tuoi giocatori, Salifu ancora al Modena, fedato alla Samp, che stagione, che spazi si aprono per questi due giocatori potrebbe essere una stagione importante per il loro ulteriore lancio? Beh, assolutamente sì, sono in due, sia Salifu che Fedato, in due società importantissime per la categoria che fanno. Salifu è già il secondo anno che va dalla Fiorentina al Modena, squadra che secondo me quest'anno ha la possibilità di fare molto bene, e quindi per lui è una grande possibilità di mettersi in mostra per sperare di tornare poi magari un giorno a giocare in Serie A come ha già fatto due anni fa. Per Fedato invece è un po' la consacrazione di quello che ha fatto vedere nel Bari l'anno scorso e poi a Catania. è in una squadra forte anche lui, con dei grandi giocatori, per cui spero che possa ritagliarsi il suo spazio e far vedere quello che è capace di fare.